Fervono i preparativi per il ventunesimo rally di Caltanissette del Vallone, manifestazione di rally nazionale di vetture moderne e storiche iscritta al calendario sportivo ACI Sport, automobile club d'Italia Sport, valevole per la coppa rally di zona e per il campionato regionale ACI Sport che interesserà alcune vie e piazze cittadine per la partenza della manifestazione, nonché per l'effettuazione della prova speciale che si svolgerà all'interno del centro abitato sabato 1 luglio. Nello stesso giorno nelle zone interessate della manifestazione dalle ore 8 sino a cessate esigenze ci sarà la sospensione della circolazione veicolare per tutti i veicoli, compresi quelli muniti di autorizzazioni di legge interoga. Il terzo appuntamento della coppa rally di ottava zona del campionato siciliano per auto moderne e storiche si svolgerà con un percorso caratterizzato da ben 10 prove speciali. Sabato 1 luglio la prova spettacolo sull'asfalto cittadino di Caltanissetta. Domenica 2 luglio le 9 prove speciali tra Acquaviva, Milena e Mussomeli sull'asfalto del Vallone con lo splendido castello manfredonico ad ergersi come punto di riferimento per gli equipaggi della ventunesima edizione. Dopo la proficua collaborazione per l'edizione dello scorso anno tra la Caltanissetta Corse, storica organizzatrice con il suo patron Peppe Lombardo della gara nissena e i piloti e gli appassionati dell'area del Vallone, anche il 2023 ha visto rinnovare quel vincente sodalizio. Una grande ed indubbia passione della Caltanissetta Corse, unite alla laboriosità genuina degli organizzatori del Vallone e la superba collaborazione dell'ACI di Caltanissetta, che regaleranno una splendida edizione del rally nisseno agli appassionati del motorsport siciliano e agli equipaggi che gareggeranno lungo le 10 prove speciali tra il castello di Pietrarossa di Caltanissetta e il castello manfredonico di Mussomeli.